Coronavirus, qual è il bilancio di oggi per il Polesine? Il bilancio è ancora tranquillo. Mi spiego. Certamente c'è un aumento del numero dei casi. Noi oggi abbiamo 27 casi positivi, tutti in isolamento domiciliare, non abbiamo più ricoverati. Abbiamo avuto una persona ricoverata per un paio di giorni in malattie infettive, quindi tutti in isolamento domiciliare, 27 casi che sono praticamente quelli dell'ultimo periodo, dell'ultimo mese. Quindi c'è stato certamente, i grafici anche lo evidenziano, un innalzamento della curva. Però se guardiamo l'indice di prevalenza, vale a dire quanti casi ogni 10.000 abitanti, noi in Polesine abbiamo 1,14, in Regione abbiamo 2,7. Quindi siamo ancora la provincia che, come nella fase epidemica più acuta, presenta la situazione migliore, più tranquilla dal punto di vista dell'andamento delle positività. Però questo aumento delle positività ci dice chiaramente alcune cose, se le andiamo ad analizzare. L'età media delle persone positive è drasticamente abbassata, poche persone all'isopra dei 65 anni. Prevalente l'incidenza appunto in queste 27 positività di età giovanile, insomma ragazzi di 20 anni all'ilà del bambino di un anno, i ragazzi di 20 anni, persone di 30 anni, 40 anni, 50 anni. Cosa ci dice? Il fatto anche che da un punto di vista numerico assoluto sia prevalente, queste positività sono prevalenti a Rovigo, cioè il numero maggiore è qui a Rovigo. Sono legate alla vita di relazione, vita di relazione che è in dubbia, che non si mette in discussione, ma sono legate alla vita di relazione, al fatto che magari durante la vita di relazione, soprattutto tra i giovani, ci si può dimenticare delle regole di sicurezza. Il risultato è questo. Allora, quello che io dico è vita di relazione certamente, benissimo, però cerchiamo anche di ricordare quelle poche semplicissime regole che garantiscono la sicurezza per sé e anche per gli altri, che sono l'uso della mascherina, soprattutto quando si è vicini, mantenere i distanziamenti adeguati, igiene le mani, non toccarsi gli occhi. Cose semplicissime, che sono compatibili con una vita di relazione vissuta e vivace. Qual è il bilancio invece per quanto riguarda la West Nile? Per il momento il bilancio è positivo, nel senso che non abbiamo ancora avuto ad oggi casi umani di presenza di malattia. Il ragionamento va fatto sull'esito dell'attività di disinfestazione, che è partita per tempo, come sapete, in maniera omogenea, coordinata su tutto il territorio, come da due anni si sta facendo. Il dato che possiamo riportare è che ad oggi noi abbiamo nelle trappole un numero di zanzare sensibilmente più basso rispetto a quello dell'anno scorso. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'attività di disinfestazione sta funzionando. Abbiamo riscontrato, cioè più che noi, l'Istituto Zoologico delle Trevenezze, ha riscontrato in una trappola nel Basso Polesi la presenza di zanzare con virus. Questo è un aspetto certamente importante che mantiene alta l'allerta da parte nostra, ma il dato che dal mio punto di vista è ancora più importante è che appunto nelle trappole disseminate sul territorio polesano, trappole che catturano le zanzare, si è visto che il numero di zanzare è più basso rispetto all'anno scorso. Quindi la disinfestazione continua ed è efficace. Grazie mille. Grazie a voi.